E' stato inaugurato ufficialmente il Parco Avventura Sottosopra, un insieme di percorsi acrobatici sospesi a diverse quote da terra, installati su alberi ad alto fusto nel Bosco di Agazzi. Grazie all'impegno congiunto della cooperativa sociale Il Cenacolo, di All Stars Arezzo e dell'istituto di riabilitazione di Agazzi, ha visto la luce questo luogo di divertimento che ha il valore aggiunto dell'integrazione sociale per le persone con disabilità inserite nel progetto. Il parco è stato realizzato in questo bosco che ci è stato messo a disposizione dall'istituto e questo perché il bosco è molto bello e non veniva altrimenti sfruttato, quindi è un'occasione per mettere a disposizione questo spazio di tutta la cittadinanza in modo che le persone possano venire a divertirsi in questo che è sempre stato in realtà un luogo di cura. Il bosco, la natura, gli alberi, quattro tipologie di percorsi consentiranno a bambini, adolescenti e adulti con e senza difficoltà di divertirsi nella natura. L'invito è alla cittadinanza, alle associazioni sportive, al mondo scolastico di venire a trovarci così da aumentare le relazioni con le persone con difficoltà che abitano presso l'istituto, ma così semplicemente per divertirsi come famiglie, come gruppi, come sempre cerchiamo di fare, proviamo ad aumentare quello che è il potenziale dell'inclusione sociale attraverso le attività motorie sportive ricreative in questo caso.